Ok, ciao a tutti amici, vi ritrovi sul canale di Lina. Oggi vi ero con una particolarità, che continuiamo la nostra sfida. E c'è mia figlia, che tratterà gli stessi tocchini che ho trattato io. Allora, abbiamo un miliardario, una tombola, dolce natale, numeri fortunati, e mi chiamavo due anni. Magari saluto, Gianna, dicciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie come ho trattato io. Allora, incomincio con la trattata di Lina. Ok, allora, un attimo. Ci impariamo bene. Ok, allora, buona visione a tutti amici, passiamo alla trattatina. Allora, Gianna, no, così c'è la luce, ma che... Vediamo qua che riusciamo. Allora, non morimo un cento. Allora, sono 40, 29. E quello io lo gratto per ultimo. E va bene, ma come voi tu, il tuo video. Ok. Scusate l'ombra. Scusate l'ombra. Allora, non morimo un cento lo avevamo detto. Allora, l'hai detto? Sì, l'ho detto. Adesso c'è il 16. Che no, no. Tra quelli senza bonus. 45, no, non ce l'ho. 36 neanche. 7, no. 32, no. 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 No, ce l'ho. 40, preso. Ok, continua. 44, no. 34, no. E 46, no. Adesso scopriamo il bonus. Che è il 42. Che non c'è. Non c'è, no. Se c'è il 40, non c'è il 42. Allora, grattiamo il 40. Vediamo che c'è sotto. Secondo me ci sono 2 euro. 5 euro di paglia. 2 euro. 2 euro. Allora, il numero del bulletto di prima era il 66. 7 e 18. Ok. Non ti ricordo. Adesso il numero di fortunati. Numero? 14, serie 83. 83. Sì. Ok. Adesso lo grattiamo. 39. E ce l'ho nella colonna lunga. Non è inutile. 33. Non c'è. 12. Non c'è. 53. Non c'è. 69. Manco. 22. Ok. No, ora prendo la colonna lunga, mamma. Aha. Io non ho molto farlo. No. 74. 44. Quarantacinque. 27. Questa qui. 14. No, la colonna lunga. Ci manca uno Il 64 Il 64 Il 58 Il 29 No Non c'è Il 15 c'è Il 20 non c'è Il 63 infatti No, il 64 E non c'è Il 48 Neanche Ecco, noi abbiamo un numero Il numero Il 48 Ok Adesso cosa fai Il dolce natale Il dolce natale Il numero 22 serie 61 Ma perché alcuni ci sono le lettere e alcuni no? Non lo so Cosa finiscono le lettere non lo so Ma c'è molto bello Allora Grattiamo sti pandori e sti panettoni Non provo Cappello Stella Pattino E Pungitopo Si vede mamma? Si, si Wow Allora Allora Il calice Non c'è La tombola Non c'è La renna Non c'è Il tappo Non c'è La ghirlanda Non c'è Lo spumante Manco La campana Non c'è Il regalo Non c'è Il razzo Non c'è La slitta No Non c'è Angelo Non c'è E il pupazzo Non c'è Non c'è La pava Ne abbiamo tre di questi Si Aspetta che li mettiamo divisi Quelli divincenti Questo è Il 18 Serie 61 Sono tutti della stessa serie Mamma Si, si Ci abbiamo L'angelo Il pungitopo Il calice E la luna Babbo Natale No Renna No Stella No Fattina Ce l'avevamo Prima Spumante No Ghirlanda No Tappo No Albero No Pugazzo No Campana No Fuoco Fuoco No E Tombola No Ecco Il pungitopo Non è pronto Ok Prossima Terza e ultima Io dico che quelli che strappano così sono più sfortunati Ah Sì No Vabbiamo Numero 24 La stessa serie 61 Ghirlanda Slitta Trombetta E partino simboli vincenti I simboli nostri sono Regalo Babbo Natale La renna La luna La stella L'angelo L'angelo Il cappello Pungitopo Pungitopo Razzo Calice Albero E candela No Un unico no Questa volta Ah 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 Molto E che troppo ardente Sì Ok Passiamo al prossimo Allora Lo seguiamo con la tombola Ok Numero 5 Serie 23 Ok Ok Allora Devo grattare i numeri vincenti Sì Allora A 1 a 1 però Ok Come numeri fortunati Ci fanno Ah ok Prima 1 Vedo se c'è Sì 66 Non c'è Ok Vai avanti E poi c'è anche da guardare Questo Sì lo so 51 Non c'è 38 C'è Ok Ok 60 Non c'è Non c'è 0 1 Non c'è 15 c'è C'è 47 Non c'è 44 c'è 43 53 Non c'è 58 Non c'è 25 Non c'è E io non lo dove fanno Neanche 83 Ma con l'ambo L'ambo si può fare Sì Vabbè Non ho avuto niente Sono obbligatorio con l'ambo Anche Lo fai per poco L'ambo 72 Secondo l'ambo Secondo l'ambo Ma devi fare un altro numero Da qui 73 Ecco Hai fatto i tre l'ambo Praticamente adesso è il numero per vincere 84 e non c'è Che non c'è Adesso sono le stelline I buoni E che devo fare? Quattro quelle E vediamo No Vabbè è uguale Quattro prima sopra Quattro prima queste Ah le stelline Candela Calza E guanta No Vediamo Ghirlanda Niente Regalo Niente E caramella Niente Allora ultimo Biglietto Il miliardario Che è un numero 18 Serie 69 Numeri vincenti 43 27 38 28 17 I miei numeri No 38 Che bello è uscito Buono Non ho male Allora 17 pure Brava Brava Continua così Continua così Continua così Un tiro a bacco 13 Non c'è 44 C'è il 43 21 No 11 euro Sono 39 Non c'è 19 11 26 Non c'è 14 Non c'è 40 Non c'è 42 Neanche 37 No 30 No 45 No Allora Tu non Non c'è Sì Che corrispondono Secondo me Rispettivamente A 5 euro 5 euro Allora Vabbè Non c'è Tu che dici Mamma Vabbè Non lo so Allora 38 Qual era l'altro 17 Non c'è L'altro 5 E 10 E 5 No Manca 10 Comunque si potrebbe dare un premio a chi indovina Ok Allora 10 euro Poi mi devo dare Numero Avevi detto 18 18 Ok Allora Cara figlia Cosa avevo fatto oggi Ho vinto la sfida O no L'ho persa Perché io Io ho fatto 27 euro E tu hai fatto 12 euro Allora punto io la sfida Cara figlia E niente Allora comunque Tutti questi raggini Che abbiamo abbracciato Abbiamo preso 12 euro Di recupero E va bene così Comunque Speriamo che vi sia vaciuta La nostra sfida Di fine anno Auguriamo ancora un buon San servizio a tutti oggi Buona figlia Buon inizio di anno Ok Ciao a tutti Ciao a tutti Auguri a tutti A prossimo video Buon anno Ciao Ciao a tutti